E' veramente con grande piacere che scriviamo stasera i familiari di Cina San Germano, la concittadina che io credo possa essere adoperata tra le eccellenze della nostra città. E' proprio in quest'ottica che noi vogliamo ricordarla stasera, ma un evento che non vuole essere né una concagolazione, né che non è una memoria sterile. Vuole essere soprattutto un ricordo, un volentare, una maggiore pregnanza a quella che è l'arte di Cina San Germano. Io saluto calorosamente i conzenti ormai, e ci conoscevano poco, dei conzenti di chiamarti in maniera innormale, con il quale abbiamo in percorso da un po' diversi una picca collaborazione, grazie anche al nostro sindaco, al dottor Francesco Lugiuvice, che mi ha un po' aperto questo mondo. Io sono sincera, non conoscevo la storia di Cina. e mi ha molto affascinata, non soltanto per la sua opera che traspare dalle sue foto, che io credo che siano delle foto che parlano, che raccontano un po' di sé, quella che sta nella sua storia, la sua vita, che creano emozioni di chi ha il piacere e non l'incontrata per la prima volta attraverso la sua arte. Un po' ieri, quando Leo e Vincenzo portavano le foto che stivavano alla Saletta, io devo dire la verità, mi sono molto emozionata, perché le foto sono veramente particolari e bellissime, in parte che danno un po' di senso di quella che è l'identità e la storia che disegnano. Parli e bellissime della, ma soprattutto perché parlano di sé, raccontano una storia, ogni foto racconta una storia interessante. In pratica, tanti piccoli fotografi, che messi insieme in sequenza, raccontano quello che è una narizione, non solo tanto dell'artista, ma di tutto quello che è il suo disturbo, di quello che c'è dietro di lei, e raccontano un'ambientazione. Quindi cercano di scoprire anche la storia, di un passato molto lontano, che spesso noi, i giovani, ignorano. E il motivo a questo è stato uno dei motivi contanti, per cui abbiamo scelto di allestire una delle stanze più vissute del nostro municipio, con l'arte di Gira Sin Germano. Ancora stasera, da qui io vorrei sottolineare che noi crediamo fermamente, come amministrazione comunale, all'affermazione di quello che è un concorso culturale. Crediamo ancora, e sempre che di voi stasera, ne è una riprova, che la cultura possa essere volata, per far crescere, sviluppare e proiettare all'esterno quella che è la forza, il potenziale della nostra cittadina. Carmi Dio, io credo si possa raggiudere così l'elevolo di stasetta, perché l'attimo capitulato non congede le epiche. Quindi, non congede le epiche, ma non ci può considerare quindi mai di rivedere ciò che l'artista è riuscito a compiere. E io ho ripensato, dicevo, mi sono emozionata ieri perché c'è una foto particolare che mi ha portato alla mente un po' anche quello che io ho vissuto. Io ho fatto riprendere a mio papà, c'era una brocca con del vino, lo anticipiamo, e ve lo ho in mente quando, ritornando dalle serate, dicevo sì tardi, mio papà, come in tanti, mi segnalessi, la prima è il gesto quotidiano, la quotidianità, prendere il fresco di vino, un diversale, un po' di vino. dicevano, lascio il suo. E quindi mi ha riportato alla mente tutto questo. Noi spesso, quando viviamo un dolore, siamo tristi, non siamo portati a rivedere le foto di chi ci ha lasciato. Però, andando a rivedere, a riscoprire, dopo tanto tempo, noi troviamo la gioia, l'entusiasmo, l'allegria di quel particolare momento in cui noi abbiamo fatto l'occasione di vivere la persona a noi. Io non la faccio ancora tutto, perché è un momento, diciamo, particolare. Vi lascio la parola, in dato alla sindaco, e poi al professore Nuno, che saluto, iovani, straviti. Grazie. 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 Grazie.